Sicilia Sicilia Conference, una manifestazione sportiva di spessore al Sun Club di Siracusa. Ne parliamo con Viviana, 25, da 20 anni in questo campo, quindi chi meglio di lei può raccontarci che cosa accade in questo weekend? Questo weekend è un weekend creato da noi da ormai da 5 anni, siamo alla quinta edizione di Sicilia Conference. È una manifestazione che ogni anno diventa sempre più grande. L'obiettivo di questa manifestazione è creare interesse per le attività del fitness acquatico. Abbiamo presenters che vengono da tutto il mondo, persone che quest'anno arrivano addirittura dall'Australia, anche dalla Grecia, dalla Spagna, dal Portogallo, dalla Corea addirittura l'anno scorso. E si radunano qui ogni anno per parlare, per guardare quelle che sono le nuove attività e le proposte delle nuove attività acquatiche. Sono in questo campo da 20 anni e 20 anni che sono un po' sotto e dentro l'acqua, come si suol dire, ho l'acqua proprio fino al collo. E girando per il mondo mi rendo conto che il settore del fitness acquatico sta crescendo in un mondo di più. Quali sono i benefici dell'acquapolle? I benefici dell'acquapolle sono tantissimi. Innanzitutto è un'attività che può fare chiunque, quindi può fare il teenager, la signora. È un'attività molto divertente, è un'attività di gruppo, è un'attività che non crea nessun tipo di problema. È a ritmo di musica e si lavora dentro l'acqua, quindi tutto un lavoro cardiovascolare, un lavoro di tonificazione ed è un lavoro ad alta intensità e quindi anche allenante e molto molto efficace per tutti. Dico che è un'attività da teenager fino alla tardetà perché non crea nessun tipo di problema e nessun sforzo né alla parete articolare o alla schiena, è un lavoro davvero davvero coinvolgente. Oltre all'acquapolle abbiamo tutte le attività in acqua che comunque nel nostro centro si fanno come l'hydrobike, lo step, lavori di alta intensità come la tabbata, i circuiti, sono tutti lavori fatti in acqua che è possibile farlo. Grazie a tutti.